Sì! Prendi questo! Sì! È così che si gioca a ping pong! Tecnicamente non si gioca così a ping pong. Non hai ottenuto nemmeno un punto e hai rotto tutte le palline. Cosa? Ma come? Credevo di aver dominato! Sì, ma non hai colpito il tavolo ed è fondamentale nel gioco. Tavoli, regole! A me piace l'azione! Super velocità! Potenza massima! Ok, ordiniamo altre palline da ping pong. Consegna in giornata!